Dopo una settimana di pausa ha ripreso il mondiale di Formula 1 e ha ripreso in Belgio il circuito di Spa-Francorchamps il mio preferito di sempre, uno dei circuiti veramente più belli dove professare questo sport ovvero la Formula 1 un gran premio che per la verità è abbastanza noioso, monotono e scontato che ha visto la vittoria di Lewis Hamilton che come da previsioni domina fino al termine della competizione quando al 44esimo giro la bandiera scala che è stata sventolata il podio è di fatto la stessa griglia di partenza della qualificazione ovvero secondo Bottas e terzo Max Verstappen le cose più interessanti tra virgolette sono da definirsi più avanti ma parliamo di questo circuito e di quello che è successo Spa-Francorchamps ancora una volta ha evidenziato questo dominio incontratato delle Mercedes che era già scontato dalla prima gara ma probabilmente qui si sono raggiunti due punti di imbarazzo generale uno è l'ennesimo dominio di Lewis Hamilton ma non perché Lewis Hamilton ma perché appunto questo era ormai un campionato in cui il pilota inglese andrà a battere il record di Schumacher di fatto correndo da solo senza avversari l'unico che ci prova un minimo è Verstappen e non sempre riesce a battere Hamilton il pilota olandese l'altro punto imbarazzante allo stesso modo è la Ferrari che di fatto compie un'impresa al contrario non posizionando le due vetture in zona punti una gara che ha un unico momento di interesse per la verità nella gara vera e propria ed è questo ovvero l'incidente tra Antonio Giovinazzi e George Russell al dodicesimo giro che causa una safety car la dinamica dell'incidente qui la vediamo quando per fortuna i piloti sono usciti dalle macchine e sono stati appunto giudicati idonei anche fisicamente Giovinazzi perde all'uscita della curva la macchina Russell per evitare guai peggiori si schianta a muro verso la sinistra ed entrambe le vetture si ritirano causando dunque quella safety car che permetterà poi alle vetture tra cui soprattutto i primi tre di fare l'unico pit stop della gara e permettere dunque di arrivare ai primi tre classificati esattamente come erano partiti in qualificazione vi ripeto erano partiti Hamilton primo dando mezzo seconda botta su una roba incredibile seconda punta botta, terzo Verstappen e il podio è esattamente questo ovvero il piotto inglese davanti a tutti il finlandese secondo e l'olandese terzo qui vediamo l'immagine delle qualificazioni che in realtà è poco indicativa ma cambia poco visto che appunto l'ordine è lo stesso peraltro Hamilton dopo le qualificazioni ha fatto questa dedica il segno della tribù del Wakanda raccontata nel bellissimo film a mio modo di vedere Black Panther attore protagonista fu di quel film fu Chadwick Boseman attore statunitense venuto meno purtroppo nella giornata di ieri per un tumore appunto che lo ha coinvolto con questa vittoria banale, scontata e imbarazzante Hamilton comunque va a 89 vittorie di carriera e sempre più grandi passi si avvicina a questo record di Schumacher che batterà correndo da sole questo è un punto abbastanza incredibile ma al contrario d'accordo che Hamilton è il pilota più forte in pista d'accordo che Hamilton è il pilota più bravo però è brutto secondo me anche per un appassionato come me che segue la Formula 1 da tantissimi anni vedere un campione che comunque domina in lungo e in largo senza che nessuno possa farci niente stiamo rivivendo in pratica quello che fu il campionato dell'anno scorso ma nella categoria MotoGP con Marquez che in tutte le gare ha fatto primo o secondo e qualcuno, è vero, vinceva qualche tappa qua e là ma non c'era un vero e proprio anti-Marquez in questa stagione non c'è un vero e proprio anti-Louis Hamilton vero, c'è Verstappen che comunque è molto costante tanto è vero che adesso con l'ennesimo pollo della carriera Verstappen ha superato Bottas addirittura in classifica del campionato ma non c'è niente di nessuno che possa fermare Lewis Hamilton discorso a parte va fatto per le Ferrari ma lo faremo dopo prima come al solito andiamo a vedere quelli che sono gli altri piazzamenti della gara degli altri che per la verità da quel punto di vista è stata interessante anche se io preferirei vedere una lotta più per il po' della vittoria rispetto a delle lotte per il quarto, quinto, sesto posto che siano quarto è Daniel Ricciardo con la Renault che si risveglia ottima prestazione del pilota australiano quinto è l'altra Renault, quella di Sebastiano Cone che si ricorda di essere un pilota che va e quando ha una macchina competitiva fa dei risultati interessanti ottimo quinto anche Esteban Ocon sesta posizione per Alexander Albon che comunque è quarto nel mondiale ma come vedete rispetto ai primi tre c'è un abisso, segno che questo campionato di Formula 1 è tutto fuorché interessante a lungo termine settima posizione per Lando Norris con l'unica McLaren in pista incredibile perché Carlos Sainz ha avuto un problema addirittura al giro di cognizione e non è neanche partito grande gioia per la mia McLaren che con una macchina in pista l'ha portata quantomeno a punti e io posso essere relativamente contento per il settimo posto di Lando Norris ottava posizione per Pierre Gasly che ha fatto anche lui e una signora gara aveva fatto una strategia diversa rispetto a tutti gli altri pilota francese, è partito con le gomme più dure e ha fatto di fatto la strategia inversa rispetto agli altri piloti partendo con le gomme più dure si è ritrovato addirittura a quarta a un certo punto poi cambiando le gomme ha dovuto rimortare ed è arrivato fino all'ottava posizione nonna posizione per Lance Stroll con la macchina rosa o la Mercedes B chiude la top 10 Sergio Perez con l'altra macchina rosa slash Mercedes B come avete potuto vedere la Ferrari non è stata neanche lontanamente nella top 10 e tranne un lampo di Leclerc in partenza la Ferrari i punti non li ha praticamente mai visti la Ferrari sta raschiando il fondo del barile è probabilmente la macchina peggiore in pista al netto della Williams ma la Williams a Carbonella è già un meme così e la amiamo appunto per questo motivo Sebastian Vettel e Charles Leclerc finiscono tredicesimi e quattordicesimi esattamente come erano partiti in realtà Leclerc partì davanti a Vettel ma cambia poco è una gara per la Ferrari veramente disastrosa qui si sono visti tutti i limiti della Ferrari che non solo ha il quarto motore in pista e si è visto sul ritenio del Kemmel ballavano delle velocità tremende con le altre vetture per esempio l'Alfa Tauri che è motorizzata a Honda che non è un motore proprio di primissimo pelo mettiamola così dava 20 km in più alla Ferrari questo credo sia l'emblema di questa zona disastrosa di una Ferrari anonima che appunto lottava con le Haas con le Alfa Romeo che sono anche loro motorizzate Ferrari che giustamente avendo un motore carente anche loro sono in fondo alla classifica parlare male della Ferrari va detto è un po' come sparare sulla Croce Rossa in questo momento c'è però da dire che potrebbe non essere finita qui il peggio per la Ferrari perché il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sarà a Monza e Monza è un circuito dove appunto il motore fa la differenza e con un motore con 20 km in meno in un circuito che sono 4 rettilini e 3 curve in croce onestamente la vedo dura che la Ferrari possa replicare delle prestazioni magari come inizio di stagione dove magari qualche podio stemporaneo veniva o quantomeno si lottava quei ripunti per i TV della Rossa purtroppo io temo un'altra debacle nel Grand Prix di Monza peraltro la cosa divertente che a questo disastro ha contribuito ulteriormente Sebastian Vettel come una manovra inutile ma questo per far entrare un po' nel personaggio che è Sebastian Vettel pilota ampiamente scaricato dalla Ferrari sapete che l'anno prossimo non si saprà se correrà in Formula 1 mentre al posto del tedesco arriverà Sainz Vettel si è dimostrato arrendevole diciamo con tutti quelli che l'hanno sorpassato sul retinino del Kemmel tranne con un pilota ovvero il suo compagno di squadra Charles Leclerc c'è stata praticamente una staccata incredibile di Leclerc dopo il retinino del Kemmel all'uscita dello Rouge Radion Vettel addirittura chiude Leclerc deve andare per forza fuori e arrivare dietro il pilota tedesco una manovra totalmente inutile che non serviva perché non si lottava per i punti onestamente manovra incomprensibile così come incomprensibile il Moretto Ferrari che ha fatto una strategia clamorosa per Leclerc ma al contrario il Moretto Ferrari anche quando la Ferrari fa schifo ce ne mette del suo Leclerc finisce a 14 ma facendo due pitstop anziché uno rispetto agli altri vengono fatte delle modifiche in realtà in questo pitstop a Leclerc che perde nel frattempo 10 secondi e una roba del genere all'uscita di Leclerc il pilota manegasco è spettacolare perché si chiede per qual cazzo di motivo hanno fatto questo pitstop che lo relegò addirittura in ultima posizione dietro a Latifi poi per l'amor di Dio Leclerc ha fatto quello che ha fatto è arrivato il 14esimo ma ripeto la stagione della Ferrari e questa gara in particolare credo sia la pagina più nera della storia per i tifosi della Rossa e per la scuderia di Maranello e ripeto Monza la prossima settimana sarà veramente un bagno di sangue se le permesse sono queste tra l'altro come possiamo vedere il calendario della Formula 1 è stato ampliato perché in teoria c'erano i Gran Premi selezionati fino al Gran Premio del Portogallo ovvero Portimao è stata aggiunta come vi dicevamo Imola e poi da Imola torna il Gran Premio di Turchia all'Istanbul Park doppia gara in Bahrain sul circuito di Sakir in una versione lunga nella versione corta e attenzione alla versione corta perché sarà il primo circuito che scenderà sotto il minuto e si chiude nel tradizionale appuntamento di Abu Dhabi qui un applauso veramente alla FIA che ha messo in piedi un calendario di 17 gare ai tempi del Covid prima di passare alle altre categorie che per fortuna hanno accompagnato la Formula 1 nel Gran Premio del Belgio e le categorie inferiore state molto più divertenti accediamo il mio driver del giorno e io personalmente lo do a Daniel Ricciardo simbolo della rinascita di questa Renault che ha fatto un quarto posto il secondo quarto posto peraltro di Ricciardo in questa stagione con una macchina ufficiale nettamente inferiore però rispetto alle altre sulla carta ovviamente la Renault fa quarta e quinta con il pilota australiano e il francese Estebono con grande persone della Renault e chissà che a Monza possono magari puntare a un qualcosa di più al netto che oramai il campionato di Formula 1 è talmente noioso e imbarazzante che i primi tre partono in quest'ordine e arrivano sempre quelli oramai è tutte le gare più o meno dopo la prima gara di Silverstone che i primi tre ovvero Bottas Verstappen Hamilton non necessariamente in quest'ordine monopolizzano il podio e per favore federazione tradizionale Liberty Media fatevi due domande perché d'accordo i campioni che dominano d'accordo le ere dominanti di vetture e piloti campioni come Hamilton per esempio ma a vedere una gara di Formula 1 per un appassionato come me che sa già perfettamente come finirà ancora dalle qualificazioni di certo non è un bello spettacolo figuriamoci per i non appassionati che magari guardano le gare così un po' casual si sapeva che Hamilton avrebbe vinto avrebbe dato mezzo secondo in teoria sul passo a più o meno tutti nelle qualificazioni lo stesso Hamilton ha dato mezzo secondo a Bottas con la stessa macchina la vittoria al numero 89 in carriera per Hamilton era scontata fin dal venerdì addirittura probabilmente rischiamo di avere un Hamilton che vince da qui a Abu Dhabi tutte le gare o poco ci manca e ripeto federazione internazionale per favore fatevi le domande e cambiate sti regolamenti perché un altro anno del genere è abbastanza faticoso da commentare visto che personalmente io faccio questi video seppur amatoriali ed è faticoso parlare di contenuti che non siano la gara io ho parlato di altro oggi la gara del Belgio ha detto veramente poco e niente per Lewis Hamilton dunque suona God Save the Queen l'inzionale britannico 89 vittoria di carriera per colui che ha fatto anche la 93esima pole e finalmente passiamo a parlare della Formula 2 e della Formula 3 perché sono veramente molto interessanti sono categorie molto più equilibrate per cui guardate anche questa parte del Racing Podcast Formula 2 che appunto ha accompagnato la Formula 1 e anche qui è cambiato ancora una volta il leader del campionato è una lotta a due sembra per il momento tra Robert Schwarzman pilota russo e Callum Milot pilota britannico si è reinserito anche il giapponese Yuki Tsunoda con la vittoria di gara 1 ma con il nono posto di gara 2 il giapponese si è tirato un attimo indietro e risiedito Mick Schumacher che è un pilota più costante che vincente insomma è un campionato molto interessante come vedete dalla classifica vediamo i podi delle prime due gare Yuki Tsunoda vince gara 1 su penalità in realtà di Nikita Mazze per il secondo classificato al traguardo il pilota del team Hightech Grand Prix è arrivato in prima posizione ma per una penalità di 5 secondi è stato arretrato e terzo posto per il costante Mick Schumacher che sta continuando sempre a crescere in questo campionato non è ancora secondo me pronto ad arrivare alla vittoria del titolo perché Schwarzman e Ayla Tsunoda hanno qualcosa in più se dovesse rimanere l'anno prossimo il figlio di Mikhail potrebbe secondo me essere davvero un pretendente al titolo al momento no per Yuki Tsunoda ha suonato il Kimi Galone suonale giapponese suona invece l'inno della federazione russa per Robert Schwarzman che fa una gara suntuosa in gara dura e la domina del inizio alla fine flag to flag per lui vince con 10 secondi di vantaggio sul secondo che Mick Schumacher compagno di squadra quindi doppietta per il team prima per Guan Yu Zhou pilota cinese del team junior della Renault che lui è una mezza delusione per questo campionato paga purtroppo qualche zero di troppo il cinese fatto sta che anche lui è uno da tenere d'occhio soprattutto per i prossimi anni apro due parentesi la prima sull'italiano Luca Ghiotto che fa due gare a punti non ha posizione quinta posizione per il poda Vicentino che si avvicina sempre di più alla top 10 di questo campionato purtroppo Ghiotto paga due zeri clamorosi a Silverstone altra parentesi c'è stato l'esordio assoluto per questo ragazzo il pilota Estone Yuri Vips che ha sostituito Sean Gelai il pilota indonesiano del team Dams Sean Gelai è infortunato salterà qualche gara Vips è un pilota che doveva fare la Formula 2 già dall'anno scorso lui viene dalla Formula 3 è rimasto di fatto a piedi e pronti via fa due undicesimi posti non fatevi forviare dal risultato del pilota Estone attenzione perché Yuri Vips è un pilota veramente molto talentuoso ci sono state anche delle nuove entrate in Formula 3 e le vediamo quattro piloti nuovi hanno sostituito quelli regular che erano in precedenza David Schumacher in particolare ha cambiato team e non è più dal team Chiruz è andato al team Carlin al team Chiruz che è stato l'esordio assoluto del russo Mikhail Bielov e poi ha esordito Andreas Esner piatta tedesca che ha sostituito Sofia Flörsch solo per questa gara altro esordiente per lui Chauvet comunque tutti i piloti che hanno fatto fondo classifica quello che conta è che ancora una volta qui c'è un duello a due a differenza della Formula 2 dove ci sono 3-4 piloti che se la possono giocare tutte le volte il leader del campionato è ancora Logan Surgent ma al termine della gara 1 era Oscar Piastre addirittura il leader del campionato la gara 1 di Formula 3 la vince il tedesco Lirim Zendeli il primo vittorio in carriera per il tedesco in Formula 3 per lui suona l'inanzanale tedesco che vi ricordo essere il canto dei tedeschi seconda posizione per Théo Purcher pilota francese uno dei piloti più giovani in gara classe 2003 addirittura ha 9 anni meno di me questo fa i podi in Formula 3 segno che questo francesino è un talento molto pura attenzione e terza posizione per un altro tedesco per il team Trident ovvero David Beckman che torna sul team Trident e vedete che una macchina competitiva fa tanto anche per la categoria e per i piloti stessi gara 2 la vince l'attuale leader del campionato ovvero Logan Surgent per lui suona l'inanzanale statunitense ovvero Star Spunked Banner grande gara per il pilota americano in gara 2 seconda posizione per Frederic Vesti il pilota tedesco anche qui doppietta per il team Prema e terza posizione per Liam Lawson che poteva essere un pretendente al titolo invece soltanto in quarta posizione e con soltanto due gare a concludere questo campionato di Formula 3 ovvero Monza e Mugello ovviamente Lawson è fuori dei giochi vedo più una lotta tra Surgent e Piastri che sono anche loro compagni di squadra nel team Prema e chissà chi la possa spuntare tra il pilota statunitense e il pilota australiano qui l'australiano meno bene rispetto magari a Catalunia dove era rimasto più costante in questa categoria è importante questo rendimento per arrivare sempre più in alto possibile e qui Monza e Mugello ovviamente saranno decisivi pareti sugli italiani ce ne sono stati tre in questa competizione Matteo Nannini ha fatto tredicesimo in gara 1 quindi un buon risultato per il pilota romagnolo anche lui classe 2003 giovanissimo venticesimo purtroppo in gara 2 sul fondo purtroppo gli altri due italiani Federico Malvestiti diciottesimo e ventesimo comunque nella top 20 DeLedda il pilota ultimo italiano in griglia molto più in fondo in classifica occupava spesso le ultime posizioni dunque vedremo cosa si darà per quanto riguarda tutte le categorie in particolare la Formula 1 categoria regina che però come vi dicevo prima è imbarazzante noiosa e orrenda per diversi motivi e qui voglio sapere le vostre opinioni cosa ne pensate di voi appassionati se trovate questa Formula 1 noiosa e cosa cambiereste per quanto riguarda regolamente gli anni venturi un po' più equilibrate la Formula 2 e la Formula 3 che correranno Monza e Mugello con Formula 2 che invece correrà anche a Bahrain vi lascio con il podio di questa gara del Belgio con Hamilton primo Bottas secondo Verstappen terzo il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo nel prossimo video del canale sportivo che sarà domani lunedì 19 post gara del campione della Superbike e poi il secondo video settimanale sarà sulla MLB la Major League Baseball il baseball americano bisogna vedere se registrarlo martedì o mercoledì dove però parleremo del secondo terzo di stagione e saluto di nuovo da parte mia e ci vediamo dunque presto al prossimo video